Il primo è sportato anche in Svizzera, l'ho utilizzato parecchio e in questo periodo ho iniziato a vendere le prime figlie di second tronco ad oggi ne ho viste 5 e devo dire che ne sono veramente molto soddisfatti perché ci sono primiore su 40, 80 in 30 e 40 limitati in primo quarto e comunque con un'ottima valverde un'ottima qualità, una tessitura l'unico spesso del quale è Grazie 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 Grazie